Sossio Aruta avrebbe voltato definitivamente pagina dopo la rottura con Ursula Bennardo. Avrebbe infatti una nuova fidanzata, stando alla segnalazione emersa nelle ultime ore. A parlarne è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che ha ricevuto in privato una foto dell'ex protagonista di Uomini e Donne e dei messaggi inerenti dove è stato beccato. Infatti, dopo aver sofferto, Sossio Aruta si sarebbe tuffato nelle braccia di questa nuova donna che potrebbe essere diventata la nuova fidanzata. Il sito Novella 2000 ha fatto una sorta di riassunto di quanto successo nell'ultimo periodo, visto che pochi mesi fa aveva detto a proposito di Ursula, ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita. Sossio Aruta era in dolce compagnia nei giorni scorsi, c'è chi ha ipotizzato che la persona al suo fianco possa essere la nuova fidanzata. L'utente che ha contattato Venza su Instagram ha infatti pubblicato l'immagine che vede il calciatore assieme ad una donna e ha scritto, mi sa che si è fidanzato. Ci ha trascorso sia il sabato che la domenica. In piscina qui. Da parte di Aruta non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale, mentre Amedeo Venza ha commentato, Sossio avrebbe ritrovato l'amore. E siccome sapete che sono sempre obiettivo vi dico che ha fatto bene. Sconosciuta l'identità della donna che era con lui in piscina, ma se si tratta di una relazione presumibilmente nelle prossime settimane scopriremo qualcosa in più. Venza è parso essere contento e favorevole ad un nuovo rapporto amoroso di Sossio Aruta. E chissà se in qualche modo Ursula Bennardo reagirà a questa novità riguardante l'ex.